So this is Christmas Il periodo natalizio è da sempre un momento di festa, magia e gioia e quest'anno la città di Sarno ha deciso di organizzare un cartellone variegato e ricco di appuntamenti per celebrare il Natale in grande stile attirando visitatori per incentivare l'economia Non mancheranno i mercatini con i visitatori che potranno passeggiare tra gli stand colorati e immergersi nell'atmosfera magica del Natale Sarà allestita anche una piccola pista di pattinaggio sul ghiaccio Domani l'atteso momento dell'accensione delle luminarie e del videomapping con spettacolari proiezioni sulla facciata del Palazzo Comunale Colori, forme e immagini si muoveranno sulla superficie dell'edificio creando uno spettacolo coinvolgente e suggestivo Sarà un modo per inaugurare ufficialmente le festività natalizie e creare un'atmosfera magica nel cuore della città in attesa dei grandi eventi Un cartellone che sarà vasto, interesserà tutti dai bambini fino ai meno giovani e ci saranno delle novità come la presentazione il giorno 8 alle ore 18 del videomapping questa proiezione natalizia che comprenderà completamente la parete della casa municipale Stasera inaugureremo le casette al Piazza Marconi insieme ad una piccola pista di pattinaggio che è completamente gratuita e sarà gestita direttamente da coloro che svolgeranno anche attività all'interno delle casette del mercatino di Natale Cosa dire? Partiamo con il 7, terminiamo con il 5 gennaio che è l'evento che ormai è consolidato nel nostro territorio e che riguarda la Notte Bianca senza dimenticarci nemmeno delle frazioni perché il 26 avremo Enzo Avitabile con il suo concerto Sacro Sud all'interno della Chiesa Santa Maria delle Grazie ripeteremo lo stesso concerto con Enzo Avitabile all'interno del Duomo di Episcopio il 28 dicembre il 1 gennaio avremo Espedito De Marino con la Cantata dei Pastori a Chiesa Santa Maria di Foce avremo la Paranza dell'Agro in concerto il 17 dicembre nel Parco Cinque Sensi anzi a Duomo di Episcopio avremo una serie di eventi, animazioni, divertimento, concerti delle scuole per tutto il periodo natalizio partiremo con il 16 dicembre con un concerto Piazza 5 Maggio Nostalgia 90 e stiamo verificando il cantante di punta che dovrà avvenire il 5 gennaio dobbiamo raccontentare tutte le generazioni dai piccoli dai bambini fino agli adulti quindi abbiamo degli eventi per bambini, cartoni, giochi, babbo natale dei grandi concerti per gli adulti abbiamo le casette per un po' di shopping abbiamo gli eventi nelle chiese abbiamo collaborato con le scuole quindi ogni scuola terrà un proprio spettacolo al Teatro dell'Ise cerchiamo di accontentare tutti per un Natale in serenità dopo anni di pandemia un po' difficili veramente quest'anno abbiamo voluto rendere ancora più magico questo Natale è vero che magari siamo in un momento di difficoltà tutti in tempo di difficoltà economiche però diciamo che la magia del Natale deve restare sempre con noi e soprattutto far gioire i bambini So this is Christmas And what have you done Another year over A new one just begun And so this is Christmas I hope you have known The near The near Grazie.